Grosso imbarazzo dietro alle quinte del GF VIP, una concorrente o meglio una ex concorrente è solita cantare del rap e bere un po' troppo vino e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio per la diretta serale, un comportamento che andrebbe avanti da quando è stata eliminata dalla casa e che avrebbe indispettito non poco Mediaset. Le hanno dato un ultimo avvertimento, nessun nome ma un indizio pesantissimo, se non la vedrete la prossima puntata sapete perché. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie a tutti.